Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su StumbleGuys perché è uscito il nuovo StumblePass e di conseguenza lo andremo come al solito a shoppare tutto quanto fino all'ultima soglia qui non attendiamo nulla, vogliamo tutto subito Vi ricordo che ormai su StumbleGuys c'è il codice creatore, purtroppo da PC ancora niente mentre se doveste giocare da mobile, in fondo a destra nel negozio appunto c'è questa nuova schermatina diciamo così, voi cliccandoci potete inserire il mio codice creatore GGYT, tutto attaccato ogni settimana scade, quindi poi dovete reinserirlo, mi raccomando, grazie a quello di cuore a chi lo farà e detto questo, qui ci sono anche altre offerte che mi piacerebbe shoppare o non shoppare le potrei andare a prendere, non lo so, non lo so, abbiamo ancora qualche giorno quindi magari lasciando me il mi piace e andrò a shoppare anche queste altre offerte diciamo un 5000 like, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto e adesso direi che è arrivato il momento di attivare lo StumblePass Premium e andiamo a prenderci tutte le soglie, io ancora non ho capito perché non abbiano messo un modo per prendere e shopparle tutte subito, shopparle fino a un certo punto però va bene lo stesso, va bene lo stesso tra l'altro ci sono comunque come al solito parecchie gemme nel pass quindi sempre abbastanza conveniente da quel punto di vista ci sta per chi ovviamente non shoppa così tanto come me, non è male, diciamo che non è male tra l'altro adesso voglio vedere nelle varie ruote che abbiamo nello shop se ci sta qualche cosa, qualche skin che non abbiamo magari con tutta sta scorpacciata di gemme del pass anche se no, vabbè, magari non le vado neanche a ritirare non perdiamo tempo, regà, non perdiamo tempo andiamo diretti al sotto tra l'altro non ho capito una cosa adesso ve la faccio vedere ovvero all'ultima soglia che c'è la skin dell'abbraccio allora, a parte la skin speciale del Liquid Rainbow guardate la skin dell'abbraccio punch other players va bene riscuotiamo, riscuotiamo la skin speciale del Liquid andiamo anche ad equipaggiare l'altra non so neanche se usarla, ragazzi cioè Liquid è talmente più figa che utilizzerai solo il Liquid ah, vabbè, lei è giusto perché vola effettivamente no, dai, utilizziamo prima lei dai, utilizziamo prima Jetpack Jones adesso andiamo a vedere un attimino nelle ruote ma non dovrei avere cose troppo interessanti cioè di queste dovrei avere bene o male tutto forse me ne manca giusto una giusto DJ Jet o Fly Queen chi era che mi mancava dalle due? una delle due mi sa che ci mancava queste Gizie, raga, le dovremmo avere tutte quante però aspettate che vado un attimino a vedere, a vedere, a vedere, a vedere sì, mi sa che è un maschio mi sa che è un maschio Jones mi sa che è un maschio, effettivamente potrebbe essere un maschio e noi qui... no, in realtà no anche quella skin lì abbiamo ci manca... no, di quella roba che c'è nelle ruote non ci manca nulla, ragazzi quindi direi che andiamo a vedere anche subito le nuove ricompense dell'altro pass ormai fanno questo doppio pass incredibile e l'obiettivo è Twister Twister lo dobbiamo prendere in qualsiasi momento oddio no, c'è la battaglia nerf non mi va di fare la battaglia nerf non mi va di fare la battaglia nerf facciamo quest'altra facciamo quest'altra piuttosto vediamo che succede non ho messo la skin dell'abbraccio dobbiamo metterla dobbiamo metterla perché così almeno vediamo questi pugni che si tirano abbracciando e vediamo che cosa succede allora, allora, allora c'è qualcun altro con la skin liquid? noi non l'abbiamo messo, quello liquid rainbow però dopo lo andremo a mettere, ovviamente però attualmente giochiamo con questa molto carina no, ci sta, regà, è molto bella ci sta, ci sta, ci sta no, mi piace eh, calla, già mi stanno facendo cadere già mi stanno facendo cadere perché io ho un high e non ho no, no, no maledetti vabbè, ma era tutto calcolato ragazzi perché così andiamo a mettere subito l'abbraccio così andiamo a mettere immediatamente l'abbraccio però lasciamo questa skin perché non l'abbiamo utilizzata praticamente per niente 25 medagliette ce le siamo prese attenzione alle animazioni no, alle motto, scusate allora, abbiamo il calcio d'acqua che comunque dobbiamo andare a mettere eccolo qui la usiamo e lo mettiamo qui l'abbraccio elettrizzante effettivamente è un abbraccio e non è un pugno ma immaginavo il pugno infuocato l'abbiamo messo e chissà che skin faranno alla banana cioè che skin potranno mai fare alla banana non lo so ma partecipiamo a quest'altro torneo nuovamente e vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare questa volta tutte le motto ovviamente sono a disposizione stavolta le inizio a spammare un pochino anch'io perché mi sono rotto le scatole di prendere le pizze e non darle a mia volta bot bash mamma mia rega ste mappe comunque al primo turno sono deliranti sono a dir poco deliranti c'è qualcun altro che ha la skin ovviamente sta qui come la nostra Jones tra l'altro vediamo un po' ah? ah no rega ho sbagliato tasto ho fatto il calcio ho sbagliato tasto uh vai no! è scappato il dinamitron lo stavamo per andare a prendere ok mannaggia l'ho lasciato carino però non si vedono troppo eh cioè se devo essere sincero le scintille le avrei fatte un po' più prepotenti tra virgolette cioè non si notano tantissimo mannaggia la miseria mannaggia no 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 coccinelle state buone no 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 fantasmino cioè ma vedi che devi fare fatte l'affari tua dai non mi va di perdere di nuovo al primo turno ragazzi per favore per favore abbiate pietà di me eh meno male ragazzi un po' di pietà per noi vediamo un pochettino adesso la seconda mappa quale possa essere sono molto curioso perché dovrebbero essere tutte così a sopravvivenza tecnicamente in questo turno quindi anzi il turno è anche abbastanza carino mi piace quello del nerf regà rischia di durare veramente troppo cioè io quella modalità c'ho paura a farla perché dura veramente troppo ma quanto si muovono velocemente le ele le modalità mi sta venendo il mal di testa oh laser tracer prima siamo morti praticamente instant vediamo se questa volta riusciamo a fare qualcosina di meglio dobbiamo stare attenti alle emote abbiamo visto che ormai praticamente tutti hanno le emote quindi diventa un po' problematico gestirle voglio quelle guardalo questo che maledetto non so neanche se è lo stesso fantasmino di prima sì vabbè però non è possibile che mi piate tutti a pugni vedo questi vedono il nick rosso gli esecchiude la vena gli esecchiude proprio la vena vengono proprio a pusharti come se non ci fossero domani sti maledetti allora fermi tutti ok questo è maledetto il l'orsacchiotto rosso è il più maledetto di tutti niente ho preso l'astronauta perdonami astronauta non ti volevo prendere non ti volevo prendere astronauta ok dai ne mancano altri due ok no ma perché non ha ma che mi hanno body bloccato dai non ci credo non mi ha saltato la skin e mi hanno body bloccato che stavamo tutti lì vicino vabbè ma che sfiga 40 medagliette e 3 gemme no regà ma che sfiga non ci posso credere non ci posso credere oggi ci sta dicendo anche abbastanza male allora andiamo a mettere il liquid rainbow eccolo qui molto figo ragazzi molto molto figo e direi di continuare appunto a giocare in questa modalità qui uh block dash regà eh block dash al primo turno è bello cattivo eh perché siamo in tanti e diventa abbastanza complicato diventa abbastanza complicato gestirlo qui si parte subito con bei blocchi altissimi abbracci calci pugni va bene no occhio abbracciamo bene 4 sono stati già eliminati dai che ne mancano altri 8 andiamo di là dai 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 eh vabbè bel pugno un calcio di qua oddio regà io continuo a dare no 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 ok eh dobbiamo salire ok qua è sempre pericoloso quando si è in tanti perché uno sa calca oh ma solo in sé eliminati ancora ma che lobby cattive stiamo beccando ok va bene va bene va bene abbiamo rischiato un pochino ma va bene oh ma di nuovo va bene ho tirato il pugno così nel dubbio ok 11 eliminati da che ne manca uno da che ne manca uno da che ne manca uno no no mamma mia let's go perfetto e si valsa vabbè il secondo round bene o male ci stiamo anzi sempre qualificando mo tocca vedere che mappa capita al secondo round maledizione ai 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 bombardamento regà va bene va bene vediamo un po' se riusciamo a sopravvivere in bombardamento il calcio dove ho preso tutti tutta la lobby no 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 c'è qualcuno che le banane le 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 ma scusate ma la sparo pure la banana sparo anche io la banana l'ho lasciata lì i due sono stati già eliminati mamma mia comunque qua si crea proprio la calca c'è un sacco di gente no no tranquillo draghetto ok mamma mia regà con il calcio d'acqua ogni volta sembra che cadi in acqua eh questo me lo la tira qualche mazza già è partito il conto alla rovescia no 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 ok no bomba lì eh vabbè lo sapevo ma quello lì regà con la skin tutta scura mi sta puntando da prima mi sta puntando da prima guardalo che maledetto ok caduto perfetto godo godo avrei preferito che adesse quell'altro quello la skin tutta scura ma va bene anche così andiamo andiamo in finale finalmente ci siamo guadagnati la finale abbiamo fatto primo round alla prima partita secondo round alla seconda partita terzo round alla terza partita lavalent mamma mia da quanto non gioco lavalent da quanto non gioco lavalent una delle mie mappe preferite in assoluto bellissima lavalent bellissima eh qua il pugno è fondamentale qui il pugno è troppo importante qui il pugno no no ci siamo io ho tirato il pugno e mi sono incastrato sulla skin ma che cosa è successo regà non mi potevo più muovere mi aveva abbracciato gli ho tirato un pugno e tipo io mi sono incastrato sulla sua skin e non mi potevo più muovere no dai ragazzi però è uno scam continuo sto gioco così dai su c'è la seconda e la terza partita totalmente rovinate in questo modo totalmente rovinate così io non ho veramente parole vabbè vabbè che poi io volevo semplicemente la mia vendetta contro la skin scura che tra l'altro mi aveva di nuovo abbracciato quel maledetto detto questo ragazzi mi raccomando vi ricordo il codice creatore ggyt nello shop di stumbleguys solo nella versione mobile iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto lasciate un bel mi piace per supportare i video di stumble fatemi sapere sotto nel momento se ne pensate delle nuove skin di stumble appunto per me è tutto ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale ciao ragazzuoli ciao ragazzuoli